Avevo otto anni e vidi i miei compagni di classe uscire dall'allenamento. Mia madre mi convinse a provarci. Da quel momento non ho più lasciato il calcio. Io da piccola calciavo tutto. Poi mi hanno regalato un pallone. Non ho mai avuto dubbi che questa fosse la strada giusta. I tuoi compagni diventano anche le tue amiche. Anche i giorni in cui non andiamo d'accordo devi andare d'accordo. La squadra è la cosa più bella del calcio. Siamo ragazze prima di tutto. Poi atlete. Ma lo siamo insieme. E questo cambia tutto.